Benvenuti, in questo episodio dell'inventario di Player Due Writing parleremo delle stampanti a sublimazione e nel particolare daremo un'occhiata alla Canon Selfie CP910. La Canon Selfie CP910 è una piccola stampante a sublimazione prodotta dalla Canon e venduta a circa 100€. A differenza delle stampanti a getto d'inchiostro, le stampanti a sublimazione non utilizzano l'inchiostro liquido per stampare le fotografie, bensì hanno delle cartucce che al loro interno contengono una pellicola semi-trasparente suddivise in 4 strati per ogni stampa, quindi ogni volta che stampiamo una fotografia vengono usati questi 4 strati, di cui 3 strati sono i colori, ovvero ciano, magente e giallo, e l'ultimo strato è uno strato protettivo che protegge la stampa da luce, calore e graffi, e che inoltre dà l'effetto lucido alla fotografia, quindi con queste stampanti non è possibile ottenere delle stampe completamente opache. con la Canon Selfie CP910 possiamo stampare le nostre fotografie a una dimensione massima di 10 cm x 14,8 cm, ovvero il formato cartolina. Con altri kit di stampa abbiamo la possibilità anche di stampare in altri formati o per esempio anche di stampare su carta adesiva, quindi possiamo stampare con questa stampante a sublimazione anche degli adesivi con le nostre fotografie. I vantaggi di una stampante a sublimazione rispetto ad una stampante a getto d'inchiostro sono vari. Prima di tutto abbiamo una maggiore compattezza, quindi è un tipo di stampante che possiamo portare anche ad eventi, possiamo utilizzare anche fuori casa, e poi il secondo grande vantaggio è la velocità di stampa, infatti questo modello in particolare per esempio può stampare una fotografia in 50 secondi. E infine un altro vantaggio delle stampanti a sublimazioni è la possibilità di sapere precisamente quante stampe riusciremo a ottenere con una singola cartuccia, perché come ho detto all'interno di questa cartuccia c'è una pellicola già suddivisa per un certo numero di stampe e in questo caso le stampe che possiamo fare con una cartuccia sono 36. Con una stampante a getto d'inchiostro invece c'è sempre il dubbio e un po' il mistero di quante stampe riusciremo a ottenere da una cartuccia di colore, dato che entrano in gioco molti fattori, tra i quali la manutenzione che facciamo della stampante e della cartuccia, la frequenza con cui stampiamo e anche c'è influenza su quanto in fretta si consuma una cartuccia di colore sul tipo di fotografie che stampiamo, perché per esempio se stampiamo sempre dei panorami con gran parte della fotografia occupato da un cielo azzurro, chiaramente consumeremo molto più in fretta la cartuccia del ciano e se abbiamo una di quelle stampanti che hanno tutti e tre i colori in un'unica cartuccia, chiaramente se finiamo prima uno dei colori, anche se gli altri due sono ancora pieni, dovremo sostituire e comprare una nuova cartuccia. Con una stampante a sublimazione invece sappiamo che a prescindere dal tipo di fotografie che vogliamo stampare, la cartuccia ci darà sempre un numero preciso di stampe che nel caso della Canon Selfie sono 36 stampe per ogni cartuccia e per stampare dobbiamo acquistare i kit ufficiali della Canon che includono sia la cartuccia e sia la carta fotografica già al formato di stampa di questa stampante. I kit di stampa esistono in varie dimensioni ma a livello di rapporto anche con il prezzo il kit che consiglio io è quello da 108 fotografie che al suo interno contiene 3 cartucce da 36 fotografie e 6 pacchetti di carta fotografica da 18 fogli a pacchetto. Questo kit da 108 stampe ha un prezzo che si aggira sui 30-35€, questo vuol dire che ogni stampa che facciamo ha un prezzo di circa 30 centesimi. Dall'altra parte servizi online di stampa o laboratori fotografici possono arrivare a farci un prezzo di 6-7 centesimi a stampa quindi notevolmente più basso però in quel caso dobbiamo raccogliere almeno 100-200 fotografie per fare un ordine e inoltre c'è bisogno del tempo per inviare le fotografie al servizio online di stampa o al laboratorio fotografico e dobbiamo aspettare che le fotografie vengano stampate e ci vengano riconsegnate. Con una stampante a sublimazione invece l'approccio è un po' più rapido, noi possiamo scattare la nostra fotografia, mandarle in stampa e in meno di un minuto abbiamo la nostra fotografia già pronta. E questo approccio alla fotografia ci ricorda un po' della fotografia istantanea con macchine fotografiche come per esempio la Polaroid o le macchine fotografiche istantanee della Fujifilm. La differenza però in questo caso sta nel prezzo, ovvero con le stampante a sublimazione come la Canon Selfie abbiamo un prezzo minore per singola fotografia perché per esempio attualmente con le Polaroid per una cartuccia da 8 esposizioni, quindi da 8 fotografie paghiamo 2,5 euro per ogni fotografia e inoltre anche il tipo di risultato è diverso. Con una Polaroid o con una macchina fotografica istantanea non abbiamo quella sicurezza e quel controllo sul risultato finale ed è chiaramente parte del fascino di questo tipo di fotografia. Con una stampante a sublimazione invece praticamente possiamo raggiungere la stessa resa delle nostre fotografie che vediamo sullo schermo. All'interno della confezione della Canon Selfie CP910 oltre chiaramente alla stampante troviamo l'alimentatore e il cassettino per inserire la carta fotografica di formato cartolina. Se vogliamo utilizzare gli altri formati di stampa dobbiamo fare attenzione ad acquistare il cassettino adeguato. Per quanto riguarda l'alimentazione invece oltre a poter utilizzare l'alimentatore da attaccare la corrente elettrica possiamo anche acquistare a parte la batteria che ci permette di un'autonomia di circa 36 stampe. L'aspetto negativo di questa batteria però è il prezzo considerato anche la quantità di stampe che possiamo fare. Infatti se da una parte la stampante ha un prezzo di circa 100 euro la batteria esterna ha un prezzo di circa 90 euro. La stampante ha uno schermo riclinabile da 2,7 pollici nella parte superiore abbiamo i tasti per controllarne le funzioni mentre sui lati abbiamo da una parte il vano per inserire la cartuccia e dall'altra parte abbiamo l'attacco usb e l'attacco per collegare la stampante direttamente a una macchina fotografica. Sulla parte frontale abbiamo il vano per inserire il cassetto con la carta fotografica e un vano invece per le schede sd visto che possiamo stampare con questa stampante sia direttamente da una scheda sd sia collegandole a computer o a macchine fotografiche via cavo oppure ovviamente la soluzione più comoda stampando direttamente dal wifi nella parte dietro abbiamo invece l'attacco per l'alimentatore e l'attacco se vogliamo per la batteria opzionale. Le immagini sono stampate a 300 dpi e hanno un'ottima resa di dettagli toni e colori ma ci sono comunque alcuni piccoli particolari di cui dobbiamo essere a conoscenza. Per esempio se stampiamo delle immagini con zone con pochi dettagli come per esempio un gradiente di colore o delle zone con un singolo colore in quel caso sono più evidenti delle leggerie linee orizzontali che tradiscono la tecnologia di stampa. Un'altra cosa di cui dobbiamo essere a conoscenza è che in fase di stampa le immagini appaiono leggermente più contrastate rispetto a quanto probabilmente le vediamo sullo schermo. Questo può variare perché può variare la calibrazione del vostro schermo. Comunque quello che vi consiglio è di fare un po' di prove di stampa e con un po' di post produzione riuscire a capire quali sono gli aggiustamenti che sono più necessari per ottenere l'immagine più fedele possibile a quanto vedete sullo schermo. Infine un ultimo particolare, una cosa che può succedere in fase di stampa è che nel momento in cui la fotografia fa avanti e indietro, il foglio di carta fa avanti e indietro, se si posa qualche polviscolo, qualche po' di polvere sulla fotografia, questa polvere verrà stampata sopra la fotografia e quindi rimarrà impressa nell'immagine. Di solito anche questo non è un problema e dovrebbe capitare sempre, però per esempio in una fotografia come questa è andata a finire proprio un puntino di polvere sulla mia fronte e quindi è un dettaglio che dobbiamo sapere che può succedere. Chiaramente con un servizio di stampa più professionale come per esempio un laboratorio di stampa cose del genere non succedono perché il laboratorio di stampa se vede qualche sbaffatura sulla fotografia la cestina e a noi ci consegnerà comunque una fotografia che è assolutamente perfetta. E adesso arriviamo alla parte più divertente ovvero al momento in cui stampiamo le nostre fotografie. Ho acceso la stampante, ho inserito il cassettino con la carta fotografica e sono già connesso a una rete wireless. Una cosa positiva è che il stampante possiamo impostargli di ricordare le password che inseriamo. In questo modo è comodo se ci spostiamo da una rete wireless all'altra per esempio non dobbiamo ogni volta immettere la password che è una cosa che ci fa risparmiare un po' di tempo. Anche senza aver inserito nessuna fotografia se andiamo sul tasto menu possiamo vedere varie impostazioni tra cui la finitura di stampa quindi possiamo fare la finitura lucida che è quella più protettiva che fa durare la fotografia per più tempo ed è pubblicizzata che dura 100 anni oppure possiamo scegliere le altre finiture che inseriscono una quantità minore della pellicola protettiva quindi è meno lucida la fotografia è un po' più opaca ma è meno protetta. Possiamo scegliere di inserire i bordi o meno nelle nostre fotografie e questo perché infatti tutte le fotografie che potete vedere che ho già stampato sono con bordi ma in questo caso ne stamperemo una senza bordi per farvi vedere che è possibile. Dopodiché abbiamo l'anteprima come possiamo... in realtà l'anteprima in realtà questo è quante fotografie possiamo inserire all'interno di una singola fotografia quindi se vogliamo possiamo fare una specie di collage con più fotografie e poi abbiamo anche tutte le altre impostazioni, l'ottimizzazione delle immagini, la luminosità, effetti che allisciano la pelle, dei cambi di colore, occhi rossi e se vogliamo possiamo anche sovrapporre la data sulla fotografia. A questo punto possiamo tornare indietro e come prima fotografia stamperemo non in wireless che possiamo farlo sia da telefono che da computer ma stamperemo usando una scheda sd per simulare per esempio il momento in cui abbiamo scattato una fotografia e vogliamo stamparla direttamente senza passare da telefono o computer. Quindi quello che facciamo è inserire la scheda sd all'interno, la stampante carica le fotografie e come vedete ho inserito in realtà due fotografie spostate dal computer e posso scegliere le mie fotografie e con i vari tasti di impostazione posso per esempio ritagliare la mia fotografia e scegliere una diversa composizione per la stampa. In questo caso non faremo cambi, come vedete possiamo anche cambiare il numero di stampe che possiamo fare e in questo caso direi che possiamo provare a stampare questa fotografia quindi da qui possiamo vedere un riassunto delle varie impostazioni ma a questo punto possiamo direttamente fare print. e vediamo che la stampante comincia subito a caricare e ha preso il primo foglietto. Quello che adesso farà la stampante sarà fare alcuni passaggi aggiungendo via via i colori. Quindi comincia come potete vedere il giallo e vedete che sta passando la prima fotografia e praticamente tutte le componenti gialli della fotografia sono visibili. Fa un secondo passaggio, aggiunge il magenta e qui quindi cominciamo a vedere un po' più di dettagli e di colori nella fotografia e infine viene aggiunto il ciano che completa la nostra fotografia. Quindi a questo punto vediamo come sta uscendo e qui già possiamo vedere la fotografia completa. L'ultimo passaggio che rimane è quello della pellicola protettiva che viene indicato anche qui e che aggiunge la lucidità e la protezione alla nostra fotografia. Una volta che la stampa è finita conviene aspettare un po' di tempo perché comunque la pellicola è stata appena trasferita diciamo a caldo e quindi se la tocchiamo subito potrebbe leggermente rovinarsi. A questo punto però possiamo tirarla fuori e vediamo che stampando direttamente dalla stampante ci sono alcuni margini che fuoriescono dalla fotografia quindi nel caso in cui mettiamo il bordo è più controllabile quello che vediamo all'interno della fotografia. Le foto, o meglio la carta fotografica, ha questi bordini che una volta che la fotografia è asciutta possiamo prendere e dividere in questa maniera e a questo punto la nostra fotografia è pronta e vediamo che a differenza delle altre in questo caso abbiamo stampato una fotografia senza il bordo bianco e possiamo vedere che la stampa ha impiegato una cinquantina di secondi e noi abbiamo dovuto utilizzare in questo caso telefoni o portatili. Per stampare le fotografie con il telefonino possiamo usare l'applicazione della Canon, in questo caso è la Canon Printing Jet Slash Selfie, quindi è quella abilitata anche per la Canon Selfie. Quando la apriamo facciamo ok e a questo punto siamo all'interno dell'applicazione e quando una di queste stampanti si trova in wifi già connessa è facile trovarla, io l'ho già inserito con il nome di CP910. Adesso usando questa applicazione possiamo anche in realtà mandare da altre applicazioni le foto a stampare sulla Canon Selfie, quindi possiamo usare delle applicazioni per esempio per fare i collage. In questo caso facciamo direttamente stampiamo dall'applicazione della Canon, scegliamo una fotografia, facciamo print e vediamo che le impostazioni sono una copia con il bordo bianco, così vediamo com'è quando si stampa con l'applicazione. Adesso solitamente il trasferimento può essere un po' più veloce, in questo caso specifico il mio telefono è leggermente vecchio, quindi ci potrebbe impiegare un po' di tempo, quindi adesso manderò un po' avanti al velocizzatore il video fino a quando non comincia la stampa. E vediamo che a questo punto la stampa è cominciata e c'è da considerare che comunque in questo caso la fotografia era una fotografia a una risoluzione molto alta perché veniva direttamente dalla macchina fotografica e non era una fotografia scattata con il telefonino, quindi vediamo che come prima la fotografia sta facendo i vari passaggi, applicando il rosso, infine sta applicando il ciano e applica il livello finale di protezione e a questo punto la fotografia è finita. Sul telefono mi dice che la stampa è completa e posso vedere che la mia fotografia è stata stampata e questa potrebbe essere una fotografia che avevo stampata direttamente dal telefonino ma in questo caso era una fotografia che avevo trasferito dal computer e possiamo vedere che dal computer quando stampiamo con l'impostazione e con i bordi il bord è leggermente più piccolo invece con l'applicazione in questo caso il bordo è venuto più grande ma comunque l'impaginazione delle fotografie con il telefonino è possibile cambiarlo utilizzando delle applicazioni che permettono di scegliere la posizione, la grandezza e il rapporto delle immagini. E come ultima dimostrazione volevo mostrarvi la stampa di fotografie utilizzando un computer ma questa volta assumendo diciamo pieno controllo sull'impaginazione delle fotografie infatti abbiamo visto che sia stampando da telefonino che stampando direttamente da una scheda sd non abbiamo una precisione totale su come stiamo impaginando le nostre immagini e di solito non è un grande problema perché su fotografie di questo genere se c'è anche un piccolo bordino che si perde magari non ci dispiace ma quando magari vogliamo fare invece delle impaginazioni più precise allora a questo punto abbiamo bisogno di avere un po più di controllo e in questo caso io ho preparato facendo un po di prove sono riuscito a trovare le misure e ho creato un file che mi permette di scegliere precisamente come allineare le fotografie e in questo caso ho preparato questo modello che vedete qui sto ancora studiando come realizzarlo in maniera finale però diciamo è una sorta di promo delle mie fotografie dove si trova sia il mio indirizzo l'indirizzo del mio sito personale che sia l'indirizzo email e quindi vediamo subito come stampare ho il file già preparato con una fotografia a questo punto non devo fare altro che fare stampa e scegliere la canon selfie tra le impostazioni di stampa vedo che devo scegliere la versione senza bordi del formato cartolina e a questo punto vado ok tutto il resto lo lascio come sta e ho disattivato l'allineamento e ridimensionamento automatico visto che voglio avere comunque un risultato che è sempre uguale ogni volta che stampo quindi stampo e a questo punto devo soltanto aspettare che la fotografia venga trasferita sulla stampante questa stampante inoltre ha una funzione molto comoda quando siamo alla scheda sd di poter stampare direttamente delle foto per documenti ed è una cosa che ho provato effettivamente funziona molto in maniera molto veloce in questo caso è l'allineamento è molto preciso quindi non dobbiamo impazzire a cercare quali sono le forme le dimensioni standard e vediamo che con l'ultima dimostrazione della puntata in realtà ho finito anche la prima cartuccia o meglio il primo kit di carta fotografica e come abbiamo visto anche prima a questo punto facciamo i passaggi di giallo magenta e qui comincia già a vedersi la fotografia il penultimo passaggio e ultimo passaggio di colore ovvero il ciano e infine la pellicola protettiva che aggiunge anche come abbiamo già visto aggiunge la lucidità alla fotografia e a questo punto anche questa stampa è pronta e in questo caso vediamo che la stampa è molto precisa come dimensioni e se andiamo a confrontare una delle ultime stampe che ho fatto con questo design se la vado a confrontare le dimensioni i bordi e tutto il resto sono molto precise quindi non è una stampante soltanto per risultati un po così approssimativi se ci mettiamo a fare un po di prove e prepariamo un file adeguato possiamo avere anche la possibilità di stampare dei design che siano consistenti come resa ed ecco qui una promo di una fotografia di ritratti la canon selfie è una stampante adatta a chi come me vuole divertirsi a stampare fotografie in caso ma non ha bisogno di risultati di altissima qualità oppure di grandi formati perché in quel caso ci si può affidare a laboratori di stampa o a servizi di stampa online se vogliamo divertirci solamente a stampare le nostre fotografie magari a sperimentare con design e impaginazioni con questa stampante possiamo toglierci questo sfizio senza dover spendere molto perché la stampante costa 100 euro come abbiamo visto e le stampe sono a circa 30 centesimi per ogni stampa ma questa stampante non è soltanto per divertirsi perché se vogliamo possiamo anche comunque sfruttarla a livello professionale prima di tutto ed è già stata da molti in questo modo possiamo utilizzarla ad eventi come matrimonio expo o fiere per stampare le nostre fotografie non appena le scattiamo ed è un buon modo per sia per farsi pubblicità e sia se vogliamo possiamo anche vendere questo tipo di stampe inoltre possiamo utilizzare questo tipo di soluzione anche come avete visto per stampare dei promo della nostra attività delle fotografie da mandare anche ai nostri clienti senza la necessità di dover fare ordini troppo grandi se magari vogliamo ogni volta mandare anche fotografie diverse ai nostri clienti come ricordo insomma delle collaborazioni in passato possiamo stampare due tre con questa stampante non abbiamo bisogno di fare ordini che richiedono un investimento troppo grande e inoltre con questa soluzione possiamo anche lasciare per esempio dopo una sessione di fotografica insieme a qualcuno possiamo lasciarli un'anteprima delle fotografie che avete scattato insieme dopodiché chiaramente invierete le fotografie finali con il ritocco finale via mail insomma come volete però questo è un buon modo perché in questo modo il vostro cliente torna a casa e ha già un ricordo della della sessione fotografica insomma può già aspettarsi quale sarà il risultato delle fotografie per questo episodio è tutto come sempre potete contattarmi via mail su carlochiocciola player 2.com e mi raccomando visitate il sito di player 2 lighting www.player2.com e iscrivetevi al forum www.player2.com. Grazie per aver visto questo episodio e ci vediamo al prossimo ciao ciao Grazie a tutti.